Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Giovanni Evaner Finizio e mi trovo in questo momento nella Practice House dei Ministry of Wynn a Varsavia. Sono arrivato una decina di giorni fa e l'idea era quella di farvi un video per mostrarvi la casa, ma ho avuto dei problemi con la webcam, quindi vi farò vedere la gaming room quest'oggi e poi vi farò vedere un po' come si vive qua, qual è la schedule che seguiamo durante la giornata, la sono scritta, la vedete? Si vede? Si vede, si. La sono scritta dunque. Abbiamo la sveglia alle 9, alle 10 abbiamo la colazione, molto preciso, siamo tutti molto precisi. Poi facciamo Practice dalle 9 e 30 fino alle 14 e 30, dopodiché si pranza e abbiamo un paio di ore libere, dalle 15 fino alle 7 di sera si fa Practice ancora, poi si cena verso le 7, si cena molto presto, poi dalle 7 in poi di nuovo Practice, questo da lunedì al sabato, la domenica giorno libero, la gente va a giro, oggi è domenica, quindi intanto vi faccio vedere la camera, Snoot e Destiny sono a Home Story Cup, mentre gli altri sono per buona parte a Varsavia. Dunque, questa è la gaming room, abbiamo Chitoplasm, Wilco, in fondo abbiamo Matiz, dall'altra parte poi abbiamo Song, Breathe, Nimitz che non c'è, è andato a bere penso, di fronte a me ho il nostro buon Rescue, Zerg americano, e niente, mi sto allenando, mi sto allenando parecchio, e farò una serie di video durante le prossime settimane per mostrarvi la casa, farò qualche intervista, e niente, per il momento ringrazio tutti i miei fan, ringrazio Vasahast che mi sta supportando in questa avventura, vi darò maggiori dettagli nei prossimi video, e nulla vi ringrazio a tutti, per il momento vi saluto, e a presto!